Non cercare di pregarvi, che cosa avete combinato? Non c'è modo di seguirlo, è finita? Non è tutto, quante coordinate riesce a tenere in memoria? Più che una gozzina credo, ma è più che sufficiente. Aulmen è molto bravo, ci ha pregato, a meno che... Niente, non va. Qualunque cosa apro, non si collega. Invece se collego l'iPhone sotto iTunes... Ora potrebbe stare così per ore, però non risolverebbe niente. Se faccio chiudi, si blocca i tunes. Devo chiuderlo forzatamente. Per forza. Infatti, in Makeup Store, niente, non va.